A Villarosa adesso abita il vento, e il sole riflette il sole. Sembra una città abbandonata, sembra che ci sia stata una fuga silenziosa, un silenzio tragico, questo è, un'assenza, un pianto, e il vento. E il vento che alza polvere gialla, e sbatte persiane contro i muri. A Villarosa non ferma più nemmeno la corriere, ma all'ingresso della statale c'è un cartello che dice Benvenuti a Villarosa, comune d'Europa.